Due promesse del canottaggio italiano, due grandi atleti che nel settore junior stanno veramente cercando in tutti i modi di essere più che protagonisti ai nostri microfoni. Partiamo subito sentendo com'è stata questa gara, una gara combattuta, raccontacela un po'. Sì, è stata una gara molto combattuta perché dopo la partenza i nostri avversari dell'Eco sono sempre rimasti piuttosto vicini e quindi abbiamo dovuto fino all'ultima palata sempre stare attenti a questi avversari molto validi. Tutti equipaggi misti, tutti equipaggi che vi hanno messo a dura prova ma voi alla fine ce l'avete fatta. Gli altri equipaggi invece come si sono comportati? Mi hanno avuto un po' di difficoltà appunto con l'Eco a tenergli testa però siamo riusciti a staccarli verso la fine di poco ma è quello che contava. Ragazzi il vostro doppio oramai è veramente più che collaudato, ci farete sognare anche in campo internazionale sempre con questa formazione? Sì spero, speriamo. Beh noi la lanciamo, lanciamo il sasso e ci proviamo. Per quanto riguarda invece i prossimi obiettivi quando vi potremo rivedere? La prossima gara appunto è la 2.40, il 4 di coppia e poi si passa mi sa agli europei a inizio giugno. Beh ovviamente gli europei vi vedremo protagonisti, almeno incrociamo le dita e quindi vi facciamo un grande in bocca al lupo ma non scappate perché oggi pomeriggio avremo la possibilità alle 2.40 di rivederli ancora all'opera. In bocca al lupo ragazzi! Crepi! Crepi! Grazie! Grazie! Grazie!